Ben trovati per un nuovo appuntamento della nostra rubrica a scuola di seduzione col nostro ospite Massimo Taramasco, ingegnere esperto di rapporti sentimentali e crescita personali. Ciao Massimo, grazie per essere con noi. Bene, ciao Paola, grazie a te del graditissimo invito, ciao. Ricordo per chi non ti conoscesse che tu sei laureato in ingegneria ma poi sei molto conosciuto su YouTube come esperto e ingegnere della seduzione, quindi dai suggerimenti su come affrontare al meglio i rapporti sentimentali. Mi trovate sul canale YouTube Massimo Taramasco, chi volesse poi vedere un po' tanti video insomma. E il tema che affrontiamo oggi è un po' il seguito dell'appuntamento precedente, abbiamo parlato di personalità iperlogiche, oggi parliamo di personalità emotive, come conquistarle. Allora Massimo, ricordiamo brevemente la differenza tra queste tipologie di persone. Sì, ok, dunque nasciamo tutti emotivi, un bambino piccolo ha emotività pura e la parte logica inizia a strutturarsi poi nel tempo fondamentalmente, quindi la prima fase è pre-logica, quindi non ha una parte logica. Ovviamente intorno poi ai tre anni, quattro, cinque, inizia a strutturarsi una parte logica. Però la parte emotiva ovviamente rimane sempre. In alcune persone, proprio a causa della sofferenza per le emozioni vissute, questa parte logica diventa iper, si ipertrofizza diciamo, no? E quindi queste strutture vengono chiamate iperlogiche perché hanno innalzato delle barriere, dei meccanismi di difesa alle emozioni, proprio perché hanno avuto un vissuti di sofferenza rispetto alle emozioni stesse. E quindi hanno messo una diga più alta, uno sbaramento più alto alle emozioni. E quindi le differenze fondamentali sono legate proprio a questo. A questo punto di vista le persone emotive, come se mettessero una diga più piccola al fiume delle emozioni, mentre le persone iperlogiche mettono una diga più grande al fiume delle emozioni. Questa è la differenza, diciamo. Però in realtà siamo tutti dei cappuccini, cioè abbiamo tutti una parte logica e una parte emotiva, però ci sono appunto delle differenze di tipo quantitativo. Le persone iperlogiche hanno una struttura logica molto forte, molto marcata, e quindi, come abbiamo visto nella puntata precedente, se vogliamo coinvolgere una persona iperlogica dobbiamo fare i conti con questa parte logica, perché la parte logica, come dire, è influente. Mentre le persone emotive, viceversa, hanno una parte, e oggi parliamo proprio delle persone emotive, hanno una parte logica poco strutturata. Non è che non ragionano, non hanno una parte logica, però diciamo che i meccanismi di difesa sono bassi, no? Una volta scorsa hai fatto l'esempio della persona iperlogica, può essere associata al topolino dei fumetti, mentre se fosse un fumetto la personalità emotiva a chi potrebbe essere? Sarebbe Pippo, Pippo, sempre un po' svampito, con la testa tra le nuvole, concentrato più sul qui ed ora, che programma di meno. Quindi, mentre la persona iperlogica, abbiamo visto, è una persona più tignosa, pignola, la persona emotiva è un po' più svampita, è molto più concentrata nel qui ed ora, vive il tempo presente e ha questa caratteristica che si innamora molto facilmente, proprio perché mette uno sbarramento alle emozioni piccolo. E quindi le persone emotive si innamorano facilmente di persone che gli fanno vivere emozioni. Ovviamente uno dice, vabbè, meglio allora avere a che fare con persone emotive. Sì e no, diciamo che non esiste il giusto o lo sbagliato, ognuna delle sue caratteristiche, perché ad esempio le persone emotive hanno anche la caratteristica di, diciamo, disinnamorarsi rapidamente. Come si innamorano velocemente, si disinnamorano anche velocemente. In PNL, diciamo, si utilizzano dei termini legati ai metaprogrammi. Ai metaprogrammi. Le persone emotive tendono ad avere un metaprogramma, si dice, verso. Cioè vanno sempre verso nuove emozioni. Per cui se abbiamo a che fare con una persona emotiva, dobbiamo sempre rinnovare rapidamente le emozioni. Quindi dare costantemente nuove emozioni, se vogliamo tenere vivo l'interesse. Altrimenti si coinvolgono abbastanza velocemente. Quindi non è facile, diciamo, portare avanti nel tempo una relazione con una persona emotiva. Paradossalmente le persone iperlogiche invece... Massimo, ci sono differenze quindi sia nel campo della conquista che poi nel mantenimento della relazione. Correggimi se sbaglio, è più difficile magari far innamorare una persona iperlogica che all'inizio mette molte difese, poi però può essere più facile il mantenimento della relazione. Viceversa con un emotivo che si innamora subito facilmente, però è più difficile la fase di mantenimento della relazione. Eh sì, l'emotivo tende a vivere il cosiddetto colpo di fulmine, no? Ti vede, viene flashato perché magari produce un'emozione, si coinvolge, però poi magari qualche mese dopo viene flashato da un'altra persona che gli dà più emozioni e quindi non ha difficoltà a chiudere la prima relazione. Mentre l'iperlogico, proprio perché per coinvolgersi ha bisogno di solide motivazioni, solide certezze, no? Le motivazioni, se le costruisce nel tempo, rappresentano un legame, no? Quasi come un legame chimico, no? Una volta che ha costruito tutto questo ambaradan di motivi, motivazioni, abitudini, perché poi sono anche molto abitudinari le persone iperlogiche, no? Ha difficoltà poi a chiudere una relazione. Piuttosto tradisce, ma non chiude la relazione. Mentre la persona emotiva, cioè non è che non tradisce, può tradire l'impulso, ma successivamente chiude la relazione. Mentre le persone iperlogiche, se hanno un buon motivo per stare con una persona, ci stanno. Se poi, però, con quella persona, diciamo, le abitudini diventano sempre, come dire, eccessive, perché anche le persone iperlogiche comunque vogliono viversi delle emozioni. Quando le emozioni tendono ad azzerarsi, magari vanno alla ricerca in qualche, come dire, situazione extra coppia di nuove tensioni emotive. Però non lasciano, non lasciano perché ovviamente, cioè lasciano con più difficoltà, insomma, perché ci sono tutta una serie di abitudini, legami che tengono unite le persone. Quindi questi sono un po' i pro e i contro dei due tipi fondamentalmente, emotivi e iperlogici. Per chi voleste conquistare, mettiamo, portare fuori a cena una persona emotiva, mentre l'altra volta abbiamo detto che è un iperlogico, bisogna spiegare, dare motivazioni, quindi dire in che ristorante ti porto, che cosa cucinano e dare tutta una serie appunto di dettagli. Con l'emotivo che cosa bisogna fare? Con le persone emotive bisogna fare esattamente il contrario, più o meno. Cioè mentre l'iperlogico si aggancia sulla motivazione, il motivo si aggancia sull'assenza di motivazione. Quindi deve essere sempre una sorpresa, perché quando fai vivere una sorpresa, quindi ma sì, magari ci vediamo, ma non so dove andremo, vedremo un po', dipende. Insomma, devi fare, come dire, c'è quella canzone, mi sembra che fosse di Battisti, e non guidare a fare spenti nella notte, quindi devi fargli provare questo tipo di emozioni, emozioni anche molto forti, ovviamente senza, vabbè, adesso è una battuta quella del guidare a fare spenti, perché potrebbe portare incidenti, però diciamo fargli vivere, somministrargli delle forti tensioni emozionali, questo è quello che, quindi non dirgli dove vai, cosa fai, chi ci sarà, chi non ci sarà, insomma, crea un po' di suspense, crea il mistero, è quello che coinvolge molto le persone emotive, no? Fargli vivere un mistero, escono, non sanno cosa succederà, dove andranno, insomma, questa tensione viva li coinvolge tantissimo. L'altra volta abbiamo visto, a livello valoriale proprio, che con l'iperlogico, insomma, bisogna dimostrare di ricalcare gli stessi valori, invece con l'emotivo esiste una figura ideale che la persona emotiva può avere a livello di età, di valori, di stile di vita, di tipo di lavoro, se avere figli o non avere figli? Allora, beh, come dicevo prima, anche l'emotivo ha una parte logico-razionale, no? Quindi non è che l'emotivo non ragiona e quindi se, che ne so, lui ha 20 anni e tu ne hai 70, dici, vabbè, va bene uguale, no? Perché vive un'emozione. Però, diciamo, se dovessimo dare un, come dire, un proverbio, no? Allora, chi si somiglia si piglia, va molto meglio per gli iperlogici, gli opposti si attraggono, va molto meglio per gli emotivi. Quindi una persona emotiva, faccio un esempio, impiegata di banca che è istituzionale, potrebbe tranquillamente innamorarsi di un punk trasgressivo, se fosse emotiva. Un iperlogico mai, un iperlogico non inizierebbe a mettere mille cavilli, insomma, cioè inizierebbe a dire, no, ma questo non va bene, qua, là. Quindi gli opposti si attraggono, diciamo che forse è quello che... Quindi farsi vedere anche un po' più trasgressivi. Mentre l'iperlogico va alla ricerca della figura più istituzionale, istituzionale nel senso di più simile a lui, perché ovviamente istituzione e trasgressione sono, diciamo, concetti soggettivi, no? Cioè, per dire, una ballerina di lap dance, per lei il suo lavoro è istituzionale, non è trasgressivo. Magari per la società in generale può essere visto come trasgressivo, però in generale no, quindi, cioè in modo soggettivo per lei no. Quindi è molto importante, quindi farsi anche vedere diversi, con abitudini diverse, con cose diverse, perché poi gli emotivi sono molto curiosi, no? Tendono a sperimentare cose nuove, per cui, che ne so, li puoi portare sul parapendio, li fai lanciare giù col bungee jumping, sono tutte emozioni che una persona emotiva si vuole vivere. Un iperlogico non lo farà mai, inizierà a dire, no, ma sono mica matto, mi butto giù, poi aumenta la pressione, c'è una certa età, insomma, fa tutti i migliai ragionamenti, per cui si tende a sganciarsi, insomma. E' importante poi capire anche a livello quantitativo, no? Perché, come dicevo prima, siamo tutti dei cappuccini, no? Per cui dove il latte rappresenta l'emotività e il caffè rappresenta la logica. Quindi un cappuccino chiaro, con poco caffè, è una persona fortemente emotiva. Le persone fortemente emotive cambiano l'umore rapidamente, e le riconosciamo anche perché magari oggi sono allegri, domani sono tristi. Cioè, vivono e non mettono filtre alle emozioni, fondamentalmente, no? E quindi dobbiamo somministrare forti tensioni emozionali. Questo è un po' il concetto di base. Poi è importante capire come riconoscerli anche, no? Non è difficile riconoscere le persone emotive, perché comunque sono, come dicevo prima, un po' svitte, hanno un po' la testa tra le nuvole, programmano poco, difficilmente hanno dei programmi a lungo termine. Se gli dici, ma tu come ti vedi tra dieci anni, boh, non lo so, cioè tendono a dire, no? Mentre una persona iperlogica, molti iperlogica, tende a schedulare, ad avere tutto programmato, anche negli ambiti lavorativi. C'è differenza tra le persone emotive e le persone iperlogiche. Le persone emotive hanno, sono anche più creative, normalmente. Quindi perché l'emotività porta alla creatività. Quindi la caratteristica è proprio quella, no? Quindi mentre le persone iperlogiche difficilmente vivono in modo creativo la vita, cioè possono anche viverla, però sono molto più, come dire, programmati, insomma, razionali e programmati. Ti faccio una domanda in conclusione, visto che stiamo appunto per chiudere questa puntata. In percentuale tu diresti che tra uomini e donne è più alta la percentuale di donne emotive? Direi di sì, anche se comunque oggi, secondo me, stanno aumentando l'iperlogica dismisura sia negli uomini che nelle donne. Credo proprio per un motivo fisiologico, no? Nel senso che una donna comunque, potenzialmente, perlomeno può diventare madre. Quindi comunque geneticamente predisposta, diciamo, alla maternità, no? E quindi a viversi esperienze emotive intense il figlio, il feto, li può far vivere, insomma, anche proprio nella gestazione. Quindi credo che sia una motivazione fisiologica e anche un po' culturale, nel senso che comunque, almeno fino a un po' di tempo fa, adesso le cose stanno un po' cambiando, comunque un uomo era più anche, faceva anche tipo un tipo di studi più, non so, più razionale, più iperlogico e nella famiglia si occupava comunque magari di cose più pratiche, pragmatiche, insomma. Di iperlogico è un pragmatico all'ennesima potenza. Grazie Massimo, allora noi ti salutiamo. Bene, un saluto a tutti i telespettatori e ci vediamo al prossimo appuntamento. Esatto, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di A Scuola di Seduzione con Massimo Terramasco e vi ricordiamo che potete seguire Massimo su tutti i suoi canali YouTube. Alla prossima! Ciao a tutti, grazie, grazie Paola. Ciao a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.